musica 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 bella ragazzi qua è mat548 e siamo in un nuovo video su zombie non è un tutorial non è niente di che eeeh abbiamo i nuovi contratti nuove taglie forte allora iniziamo subito questo quello che vorrei fare oggi è un tentativo di fare di easter egg almeno cioè almeno ci provo quindi andiamo in partita in singolo eeeh guarda un attimo direi che ho tutto pronto adesso quindi possiamo anche iniziare si va bene un giorno qualsiasi eeeh wellard è vero che sognavo di essere in uno dei tuoi film ma dicevo così per ecco ragazzi e andiamo avanti via raga si parte è pronto liberissimi tutto il sangue che volete ok ucciso tutto il pubblico non si impressiona per così poco la strada principale è aperta ok abbiamo trovato lo stereo ed è provvisto di mangia cassette dubito che ci tornerà utile ma potremmo riciclare alcuni dei suoi componenti interni ho trovato la testa di un robot bene abbiamo già e non mi picchiare dai vogliamo giocare eh se ti aiuto poi tu aiuterai me giusto? due multiple due multiple eeeh no per adesso non ci riusciamo a fare le assi forse si dobbiamo girarli un po' è stranissimo mi sembra di aver già fatto tutto questo ed è fatto raga ed è fatto raga ho un gioco verde so già dove metterlo quindi è posto no raga non vi garantisco che riusciranno l'impresa quindi polizioni al massimo ah ecco perchè mi è uscita la sfida eh spranghiamo le finestre per proteggerci meglio perchè io ho questa sensazione di deja vu? la scienza torna sempre ventile avviamo primo portale un altro verde vieni vidi vici ma vabbè non va bene non va bene ok caricami in fretta qui è l'ultimo rimasto quindi lasciamolo mangiare una specialità cosa potremmo? procediamo immagino immagino non ci sia tempo di ordinarle in base al calibro sperando che funzioni ancora due e otterrai un premio bene 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 ma io questo è il posto che fa per me questo ragazzi ci prendiamo il nostro bellissimo e simpaticissimo un nv4 epico si muore si 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 proviamo quell'interruttore facile come dire 3,14159 oh sta diventando troppo forti qua raga 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 sta diventando troppo forti e non mi piace quando diventano troppo forti carta tappata avanti ciurma che culo che culo che culo che culo c'è una cosa mi faccio il giro vado a prendermi il mio manchis una cosa una cosa se vabbè raga è così dai raga mi dispiace non ce l'ho fatta eh questo era un tentativo adesso faccio una partita veramente raga sono diventato troppo forti intanto io vedo che il video è terminato se volete altri video vi consiglio solamente di iscrivervi o mettere mi piace fate quello che volete tanto il mio canale appena iniziato quindi tutto a posto vi consiglio vi consiglio vi consiglio vi consiglio